Nella splendida cornice del Salone Metaorense a Pesaro, la Polizia di Stato ha celebrato il centosettantesimo anniversario della sua fondazione, un'amministrazione longeva che accompagnato nel tempo e i cambiamenti della società anche trasformandosi per soddisfare le nuove necessità. Una polizia radicata nel presente e proiettata verso il futuro che torna a condividere con i cittadini i suoi valori e i risultati conseguiti grazie al quotidiano operato delle sue donne e dei suoi uomini. Inevitabile il pensiero rivolto ai due anni appena trascorsi segnati dalla pandemia, tant'è che il Presidente della Repubblica quest'anno ha concesso la medaglia d'oro al merito civile e alla bandiera della Polizia di Stato agli agenti che con eccezionale valore e senso del dovere hanno profuso ogni energia nel garantire anche in occasione dell'emergenza pandemica da Covid-19 la tutela della salute dei cittadini. Un eccezionale banco di prova che ha evidenziato lo spirito di servizio che caratterizza l'attività di ciascun poliziotto consegnate anche a Pesaro le onorificenze. Sono stati due anni difficilissimi perché abbiamo dovuto affrontare circostanze, situazioni impensabili, quindi abbiamo dovuto adeguarci alle nuove esigenze collettive per garantire appunto la sicurezza di tutti i cittadini. Abbiamo svolto lavori, io ricordo la Pasqua di due anni fa, ho trascorso la giornata di Pasqua da solo, completamente da solo, girando per la città di Pesaro per verificare insieme al nostro personale, carabinieri, polizia, il controllo del lockdown generalizzato che c'è stato in quel periodo. Ricordo che c'era anche l'elicottero dalla polizia che cercava tutti i coloro che potevano, quelli che facevano un po' di furma, ma era sacro santo una certa esigenza di uscire perché in effetti erano belle giornate. Quel lavoro sicuramente ci ha ulteriormente formato, formato perché abbiamo svolto un'attività diversa dal solito. Questa è una realtà tranquilla e la cittadinanza ha collaborato molto, ha proseguito in quest'ora e chi ha aggiunto è una provincia laboriosa, educata e silenziosa. Nel suo intervento poi Todisco ha annunciato che a breve lascerà il servizio. Dirigenti superiori c'è il limite di dare 63 anni, io li compio a giugno e quindi automaticamente in mezzo successivo vengo collocato, come si dice in congetto, illimitato. Mi dispiace, mi dispiace perché dopo tanti anni di servizio e dopo tanti anni dedicati quotidianamente al prossimo, per me io ritengo che la scelta di fare il poliziotto sia una missione e quindi si termina questa missione e c'è un'interruzione, ecco c'è un'interruzione che spero di affrontare il miglior modo possibile.